Consideriamo l'OPA di sparcasse nei fatti ostile. Non possiamo abdicare ad avere una banca radicata nel nostro territorio e regalare ad altri il valore futuro dell'istituto senza alcun beneficio. A parlare oggi la presidente di Civibank, Michela Del Piero, dando voce al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito Cividalese, che ha così bocciato la decisione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A., assunta a dicembre, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria per la totalità delle azioni ordinarie della banca e un'OPA per la totalità dei warrant denominati Warrant Banca di Cividale 2021-2024. La formalizzazione della decisione del CDA di Civibank avverrà ai sensi di legge dopo l'autorizzazione da parte della Consob anticipato Del Piero. Ci abbiamo messo molto tempo ad esprimere questo parere, ha continuato in quanto Sparcasse era un partner che avevamo scelto per un progetto condiviso di banca del nord-est. Il partner, invece, ha cambiato idea facendo un'operazione, l'OPA, che per la sua stessa definizione è ostile a specificato Del Piero. Riteniamo che questa banca sia essenziale per il nostro territorio, l'ultimo luogo in cui si può decidere l'economia e la finanza di una regione, che tra l'altro è a statuto speciale. Per capire chi la spunterà tra le due cordate, occorrerà attendere l'Assemblea dei Soci, che è in programma in prima convocazione il 29 aprile e in seconda il 25 maggio. Sarà lì che ci si misurerà anche sulla proposta di Bolzano. Al momento la Sparcasse ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la prima delle autorizzazioni preventive necessarie per l'approvazione da parte di Consob, che si pronuncerà tra cinque giorni, della OPA. Le azioni, oggetto degli impegni di adesione, rappresentano ad oggi il 31% del capitale sociale della Banca Cividalese.